Non l'ha lasciato il San Nazaro, non l'ha lasciato definitivamente. Il San Nazaro non è stato mai lasciato. Il San Nazaro ha un debutto quasi sempre ogni anno a ottobre, a fine ottobre. E a fine ottobre debuttiamo con una commedia di realtà di mani che vedrà in scena il 28 e il 29, insomma. Si intitola Esciuto pazzo parrucchiano. Quindi, come vede, noi non lasciamo il San Nazaro. Parliamo dunque di questa festa di Montevergine che lei ha interpretato già altre volte. E' la stessa edizione, diciamo? E' la stessa edizione, un po' rivista, perché ovviamente non ci stanno le capacità strutturali di un teatro all'aperto come per il paese. E il Politeama è certamente più piccolo e quindi sono dovuto vedere certe cose e piazzarle. E perché andiamo al Politeama? E' una cosa che è voluta proprio nello staranno, onestamente. Ha visto lo spettacolo, mi è piaciuto tantissimo. E' già da uno scorso, le va pronto.